Buongiorno a tutti amici insieme a Paggy J di buon'ora sono tornato alla salita della Madonna della Stella ovviamente sempre qui a Gravino in Puglia per riprendere il discorso della pietra fusa pietra fusa io non ne parlo da qui ne parlo da tempi immemori quindi piccola premessa nel mio canale nella sezione interviste c'è stata l'intervista che ho fatto insieme a Ed Esploratore di due ore e mezza dove io prendo in considerazione tante cose tantissimi luoghi con la pietra fusa quindi non è che qui si parte dalla pietra fusa no questo è un posto come tanti dove c'è la pietra fusa pietra fusa che si trova in Peru con gli Etruschi ma in Egitto ovunque c'è il discorso della pietra fusa qui è soltanto uno splendido esempio ma se io dico ma non solo io ci sono tantissimi libri altri scrittori che parlano degli Etruschi sulle Ande gli Etruschi in Peru gli Etruschi ovunque non sono l'unico che lo dice se io dico che gli Etruschi sono gli stessi del Peru e sostengo e qui la conoscenza è la stessa degli Etruschi trova la pietra fusa qui non c'è niente di strano un'unica cosa strana è accettarla perché? perché nessuno ne può parlare della pietra fusa dei segreti dei di questi tizi che usavano la pietra fusa ecco perché il discorso qui è abbastanza ostico e poco accettabile ma ne parlo da tempi in memory della pietra fusa quindi vi invito innanzitutto a guardare l'intervista dove io prendo in considerazione tutti i luoghi della pietra fusa non è che me lo invento qui ne abbiamo parlato giorni fa del pavimento della grotta di San Michele che si trova praticamente qua dietro e l'ho ritrovata nella grotta delle sette stanze è identico sempre il stesso discorso nella pietra fusa quindi riparto da qui per fare soltanto piccoli esempi e poi spostarmi in un altro luogo dove anche lì è evidente il discorso della pietra fusa ora su tutti questi terrazzamenti allora intanto facciamo un'altra premessa questa salita c'è questa tagliata che ovviamente è stata fatta dagli stessi che hanno realizzato la necropoli e tutto quanto perché ci stanno i segni, lavorazioni, nicchie e quant'altro che stanno sopra i terrazzamenti quindi non si può dire che qui hanno fatto una cava dopo, nell'epoca successiva no, l'epoca è sempre la stessa di chi ha realizzato tutte queste cose ma questo è ovvio e palese non è che ce n'è tanto a scoprirlo quindi questa tagliata a metà è stata realizzata sempre dagli stessi e qui hanno spianato il pavimento il pavimento che come vedete qui siamo in salita, non so il grado della pendenza ma siamo in salita qui si vede qua per terra, ne parlai, di tutti questi solchi trasversali cui dicono è stata l'acqua perché? perché è impensabile che qualcuno parla della pietra fusa per ovvi motivi, perché non lo sa, perché non ne ho parlato per diversi motivi e fece vedere un particolare assurdo assurdo, vedete qua tutte le scalamature che partono addirittura questa è la discesa queste scalamature, se fosse acqua non vanno verso la pendenza cioè l'acqua dovrebbe colare dalla parete e per una legge fisica va in discesa qui va in salita ma non so se hanno cambiato le leggi qualcuno della fisica ma è impossibile quindi vedete infatti qui si vedono i primi solchi guardate esattamente sul muro conferma che da sempre è così questo masso è singolare perché? perché nella parte più alta arriverà a 50 cm ed è singolo e si vedono subito queste scalamature questi solchi che tutti lo sanno che non sono scalpellati ecco perché dicono che è stata l'acqua perché è ovvio che non si è stato lavorato così e allora io dissi come è possibile che in un masso così piccolino l'acqua no che cade dalla parete ma che cade sopra questo masso potrebbe mai fare un solco di 15 di 15 cm qua 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 cioè quindi tu qualcuno dovrebbe ipotizzare che sopra questo masso casca talmente tanta acqua da fare questo effetto da pazzi da pazzi perché se questo qui l'hanno realizzato sempre gli stessi e non c'è dubbio noi questi segni dovremmo vederli ovunque ovunque ma non si trovano ovunque si trovano solo qui così evidenti almeno quindi anche qui vedete è sempre orizzontale cioè qui si scende così in discesa i solchi vanno in salita allucinante allucinante ma la banalità nell'ovvietà vedete come fa l'acqua su neanche un metro quadro di materiale a fare questi solchi che flusso c'è su questo masso per realizzarlo così posso capire sotto la parete che ne cola tanta non lo posso capire comunque perché va in senso anti-orario all'acqua alla pendenza però va bene da quest'altro lato uguale qui invece stiamo lì ovviamente a salire e qui da quest'altro lato in teoria andrebbe verso la discesa ma non c'è senso neanche qui qui niente ha senso perché perché se l'acqua cola da questa parete e fa i solchi come fa a fare questa cresta a triangolo come l'acqua cade qui poi se ferma qui sulla punta o questi crostoni guardate ammorbiditi di questo se voi prendete una carriola di cemento la buttate e la spargete quando si secca è la stessa cosa quella è cemento e questa è pietrafusa vedete interrompo perché stanno venendo delle persone quindi ha già dei bordi poi il centro è stato rifatto ovviamente è recente ma ha già i bordi si vedono tutte queste scalanature che si dice sia stata l'acqua ok adesso vediamo un punto vecchio dove non è stato fatto il pavimento e si vedono sempre le scalanature tutte per diagonali qua quando piove l'acqua ha un flusso incredibile io non vedo l'ora che piove per farvelo vedere ma se per legge fisico l'acqua anche se gira sbatte torna giù i solchi se sono stati fatti dall'acqua dove potrebbero mandare in diagonale possibile che l'acqua che cola dalle pareti fa tutte queste strisce in diagonale in salita allucinante solo a pensarlo e dove c'è il flusso maggiore che l'acqua cade non c'è un cazzo di solco niente niente ma non solo i solchi si dividono vedete l'eva di Pachigno i solchi con le creste ma è un colpo di scarpello ovviamente si dividono si dividono ma la logicità signori la logicità io sono l'acqua che viene un flusso enorme da questa discesa la madonna della stella sta proprio qua viene sbatte gira come vi pare arriva qui sulla curva va verso giù e non lascia nessun solco niente non c'è un solco andare giù ma è possibile ma vi pare possibile a voi qui ipotizziamo che l'acqua da questa parete prende e scende come si divide come nasce qui al centro della discesa come nasce il solco a metà della discesa guardate guardate i strabocchi di materiale come se fosse calce buttata giù e qualcuno con una pala gli ha dato una lisciata così lo vedete qui si divide a y qua si ridivide a y e sempre andando verso su guardate qua che è successo il flusso grande si divide in uno piccolino ma è possibile che anche se fosse che cade in diagonale a un certo punto poi non prende in discesa dove la forza di gravità la dovrebbe far da padrona ma non è possibile lo vedete guardate questo sembra come se un'immensa botte camion di cemento è stato versato e qualcuno lo ha soltanto allisciato alla bene meglio perché perché non era importante a qui non ci serviva un pavimento liscio qui è stato è stato soltanto tolto il materiale dai lati ed è stata una data una sistemata al pavimento sistemata che all'epoca non è che gli fregava mascherare o dire la menzogna non ne fregava niente e l'hanno fatta come è venuta ma guardate anche qui questi bordini come sono strani come sono strani non hanno nessun senso logico secondo la spiegazione originale ma noi questi solchi anche solo quando ho fatto vedere le impronte di piedi dico ma lo vedete non c'è mai un solco è come se tu ammorbidisci la pietra ci metti in piede e rimane il solco del piede l'abbiamo visto ovunque e noi vedremo nei prossimi giorni quando torno nel territorio degli etruschi no archiabomati dappertutto dappertutto ma sono sempre loro lo dico ma se sono sempre loro in Perù in Etruria che squagliavano la pietra e facevano le stesse cose sono sempre loro che fanno le stesse cose anche qui punto punto e adesso che piove ci stanno belle nuvole che forse oggi sarò fortunato per farvelo vedere sotto l'acqua si vedrà perfettamente l'acqua che qui non è che si infila dentro le scalanature no passa tutta sopra e passa tutta sopra portandosi via sassi polvere tutte cose erosive che dovrebbero ancor più fare dei solchi al centro ma qui la pietra è talmente quando è fusa come ieri la grotta di San Michele fa una patina che si indurisce e dopo migliaia di anni infatti le cresce stanno ancora qui cosa differente dove usavano scalpelli e altre cose dove si vede che il materiale è diverso è diverso qui è proprio cemento fuso fuso squagliato squagliato e sistemato e non vederlo è solo un problema di chi non lo vede non è oggi che dico della pietra fusa non è in Peru che lo fanno solo lì lo fanno dappertutto questi segni evidenti anche delle pietre di Sonenge e questa volta mi ricorderò di sicuro ci metterò tutte le foto a parte che l'ho presentato e vi ho ricordato di andare a vedere la mia intervista sul mio canale anzi non ho fatto due di intervista che ne parlo una pure con TV City pure con TV City parlo di pietra fusa se non ricordo male ma questo è proprio come si dice è un caso bellum in discesa tutte linee in diagonale allucinante 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 e chi sono i mastri costruttori gli iniziatici quelli che hanno i segreti chi faceva le opere che sembra che il marmo era fuso ma sempre loro gli iniziati di tutti i tempi faccio l'esempio del Cristo pelato che si trova a Napoli non solo nella stessa cappella di Napoli che ora mi sfugge il nome c'è un'altra statua con la rete a maglie che a pensare che è stata fatta con lo scarpello si diventa scemi infatti un tedesco che l'ha vista diceva no non è vero questa è finta ha preso e gli ha dato una fucilata col calcio del fucile perché diceva non è possibile non ci credeva ed è stato rotto un pezzo di rete a maglia metterò le foto anche di questo qui alla fine ma gli artisti di tutti i tempi non sono gli iniziati i templari i massoni i frimassoni come li chiamate o sempre loro quelli che c'hanno i segreti e se il segreto di fondere la pietra era un segreto che si poteva dire e tutti lo facevano tutti l'avrebbero fatto ma no i segreti sono solo della chiesa chiesa moderna prima erano altri ovviamente non si dicono i segreti perché se un qualsiasi artista conoscesse questo segreto farebbe i soldi lui sarebbe un maestro lui questi non sono segreti che si dicono così semplici anzi uscirono per mantenere i segreti bruciavano tutti in piazza per mantenere i loro segreti quindi questo è un discorso ossico difficile da da accettare ma se si comprende che qui c'è un'assurdità totale un'assurdità totale nella spiegazione ufficiale lo capiamo qui lo capiamo dappertutto secondo me se qui qualcuno ha intenzione di comprenderlo se lo comprende qui ha finito non c'è altro esempio migliore per comprenderlo da qui perché perché anche un amico mi ha detto ma può darsi che sotto alla grotta di San Michele sono due ere due ere differenti quindi il pavimento sotto è un altro materiale non è il problema che è un altro materiale in Egitto c'era il granito granito rosso squagliato in Perugia c'è un basalto durissimo squagliato quindi il problema non è che il sotto si presenta di un altro materiale il problema sono le collature sono le collature evidenti di materiali versati e lavorati non sono i tipi di materiale io ho fatto vedere che la vetrificazione sta anche sul tufo in minor quantità nel tufo di Cerveteri quindi non è il problema del materiale è come si presenta che è versato lavorato e come ho fatto vedere ieri anche davanti alla grotta delle sette stanze ci stanno le bollicine di cottura le crepe che vengono perché perché il materiale quando si indurisce col freddo come il cemento si spacca è fisica è scienza questa qui non è una mia teoria questa è scienza l'acqua non può scendere in diagonale a meno che qualcuno non inverte tutte le leggi della fisica e adesso andiamo nell'altro punto che vi dicevo grazie a tutti ed eccoci sopra la madonna delle stelle sopra la necropoli di padre eterno e ritroviamo anche qui i stessi solchi gli stessi solchi in diagonale che qui sono inspiegabili perché qui stiamo in orizzontale siamo in piano ma come è possibile trovare anche gli stessi solchi in piano sempre sempre in un'unica direzione allora lì era discesa e qualcuno potrebbe anche dice boh ma in discesa sai com'è l'acqua prende velocità anche se cambiano la fisica però ci avrebbe un mezzo senso qua no qui ritroviamo i stessi solchi anche dentro le tombe e questa zona qui la chiamo la zona delle coppelle le formelle perché perché dove ci sono gli stessi scala nature e solchi li troviamo tantissimi fori che non presentano neanche loro un solo minimo segno del scarpello e ne troviamo a centinaia non solo nello stesso modo in cui i solchi sono fatti sempre con lo strabocco troviamo guardate le stesse lavorazioni a cerchio che se l'acqua adesso qui lavora a cerchio ma ci vuole coraggio guardate quanti cerchi qui che cosa succede che questa è una goccia d'acqua grande che mi c'entra un piede ma stanno sempre sempre le stesse vedete i stessi strabocchi nessun corpo di scarpello ovunque guardate quanti cerchi sono stati realizzati con lo stesso sistema guardate quanti e questi solchi li troviamo anche dentro le piattaforme delle tombe sempre sempre in piano oltretutto che non è concepibile allora guardate qua qua ce ne sta uno evidentissimo ho trovato un altro un'altra incisione vedete qui ci stanno e ricominciano a vedere qualche tomba a pozzo e sono sempre contornati da questi solchi morbidi anche all'interno ora lo vedremo più avanti ma guardate questa incisione vieni qui paghi che hai visto un cane qui hanno trovato la quadratura del cerchio sempre con le stesse formelle lisce perfette e questi petroglifi vedete ovunque ovunque io qua ne ho pulita una non so se la ritrovo ah eccola qua qui sembra come se quando la pietra è ammorbidita morbida offusa prendi un qualsiasi selcio rotondo un blocco lo poggi sopra e fai le forme e fai le forme ovunque ovunque vedete sembrano stampi come se prendi uno stampo e stampi tutti a fuori ah guardate ecco un altro cerchio meno evidente perché sono tutti sporchi ovviamente levati paghigno sarebbe da pulirli tutti questi levati levati sempre senza un solo solco di scarpello solchi di scarpello che in altri luoghi quando si vedono si vedono quando loro usavano qualche arnese si vedono i segni di scarpello lungo le pareti ovunque poi ci stanno vedete qui siamo dentro una forma scavata ma si vedono sempre questi scalanature solchi tranci come nella discesa della madonna delle stelle ma non è logico non è logico non è assolutamente logico i solchi scendono anche dentro vedete qua gli angoli guardate qui c'è un angolo di 90 gradi guardate qua angolo di 90 gradi perfetto con questa scala qui c'è una piccola discesa qua all'interno i solchi ma si percepisce che qui è stato fatto vedete un quadrato soliti scalini scaloni angolo di 90 gradi e dentro uguale soliti i solchi che anche qui contro ogni legge fisica vanno a salire a scendere a dondolare ma un solco non può fare così un solco poi deve trovare una via di fuga per portare l'acqua via non può nascere qui un solco per l'acqua in discesa fare così e risalire in salita ma come ma l'acqua se saliva qui risale anche là e vedete che guardate non sono stato io ma qui si è rotto un po' oh che carico bello questo esempio fermo Pachi vedete qui è lo stesso materiale giallo di tutti i mattoni di tutti di tutti di tutti gli altri muri questo è un pezzo neutro rotto guardate che bella si vede anche una conchiglia qua dentro non so se si riesce a vedere eccola eccola qua si vede anche una conchiglia e sopra dove eccola qui si vede che il materiale è sempre giallo ma sopra come anche la grotta di San Michele quando la pietra veniva fusa poi con i licheni tutto quanto cambia colore ma sopra è sbruzzolevole eccolo si rovina qui no qui prende tipo una cottura diventa più duro e lo stesso sistema più duro l'abbiamo visto anche dentro la grotta delle sette stanze i pavimenti presentano tutti una crosta tutti dentro la grotta delle sette stanze esattamente come questa qua ma dentro la grotta delle sette stanze non c'entrava dice guarda questo è calcare perché piovendo no non c'entra niente lì non ci piove ma c'è sta lo stesso pavimento durissimo che presenta una crosta quindi per il momento ma guardate questo che bello no questa è fatta zig zag questa è fatta zig zag incredibile che poi oltretutto anche se irregolari a me ha sempre un suo fascino una sua bellezza guardate anche questa qui una piccola formella sempre nel sistema di sbordature trasbocchi di materiale questo è ovvio potrebbe mai essere l'acqua a fare una formella così a fare il solito foro accanto che chissà che servivano tutti questi fori accanto alle tombe l'abbiamo visto ovunque qui alla necropoli del padre eterno ovunque vedete potrebbe mai essere l'acqua a fare una formella così allora se tanto mi da tanto o è sempre l'acqua o non è mai l'acqua o è l'acqua che fa questi solchi in diagonale alla discesa della madonna della stella o è l'acqua pure qui è sempre l'acqua guardate questa tomba a pozzo bellissima con tutti gli schiavi intorno meravigliosa meravigliosa ma io qui potrei camminare vedete per centinaia di metri e trova sempre le stesse scalanature più diagonali hanno sempre un'unica direzione anzi ora che ci penso è la stessa direzione che seguono anche i solchi della salita della madonna non ci avevo fatto caso è sempre la stessa direzione che poi non so se dovrebbe essere se non sbaglio nord est ma poco conta perché perché se il pavimento la madonna delle stelle è ovvio che sta dentro una tagliata lavorata è stata realizzata a mano è ovvio e c'hanno tutti i solchi per diagonale e così e ritrovarli qui cioè è solo una conferma è solo una conferma vedete guardate come vi dicevo prima ecco qua guarda caso bellum l'abbiamo appena trovato uno forma quadrata che questa anzi questa non era una forma questa era un'altra di quelle vasche che a Bomarzo dove è la famosa piramide etrusca ce ne stanno a decine di questi vaschi ma sono guardate ma io non so se ho le foto per attaccarle alla fine solito sistema il solito modus operandi vasca grande sopra io anche allo starghetta l'anello ovunque lo sono passati gli etruschi troviamo questo sistema di grande vasca quadrata grande la prima sopra è grandissima che era praticamente l'imbuto per la vasca piccolina ma solo questo dettaglio ma è possibile che lo trovo all'anello di pietra lo trovo alla piramide di Bomarzo lo ritrovo speculare identico e basta andare a vedere i video stanno tutti sul canale vedete qui c'era c'era l'anello in pietra si è rotto ma eccola doppia vasca una per la raccorta e una per la funzione di riti perché l'acqua è onnipresente e dentro questa vasca squadrata che è ovvio che è una vasca ecco qua si ritrova la stessa gli stessi solchi non so se si percepiscono gli stessi solchi che abbiamo visto finora vedete qua dentro che si nota un po' di meno perché c'è il materiale ci stanno i sassi si nota le stesse identiche scaranature ovunque così grattate e anche la stessa la stessa diagonalità ma è possibile che l'acqua entra qui dentro e fa questi solchi dove la prende la velocità dentro questa vasca per fare i solchi e anche qui se fosse l'acqua che scorre non mi scorre per diagonale come tutte le linee ma mi dovrebbe scorre verso l'imbuto della vasca questo è logico non lo dice Luca Zampi lo dice la fisica lo dice la logicità poi vabbè se uno che vi devo dire io non è che do convince nessuno a me non me ne frega proprio niente guardate che bella questa vasca non l'avevo vista l'ho trovata adesso ma è è la morte sua infatti guarda qui chiudo il video perché è inutile che sto a parlare sempre delle stesse cose quando ha un occhio ma ne come si può dire a me se è stata l'acqua o non è stata l'acqua ma in tasca ma che mi ci viene è solo un'ovvietà è solo un'ovvietà per farvi capire che come in Peru come in Egitto come ovunque dove sono passati loro i mastri costruttori si vedono sempre le stesse cose sempre il che evidenzia la mano degli stessi è solo una firma se noi ci mettiamo le stesse vasche stessa pietra fusa gli stessi anelli in pietra dentro gli stessi ipogeco e le stesse forme con le stesse funzioni con le stesse nicchie con lo stesso tutto siamo arrivati e non l'ho detto tutte a 20 peculiarità che sono speculari peculiarità dei costruttori speculari in tutti i siti che io ho visitato tutti tutti come si chiama questo qua culo cosmico botta di fortuna cosmica ma è ovvio che la conoscenza è la stessa è ovvio è ovvio non è accettata perché noi ci hanno preso per il culo con il nome ah qui sono gli etruschi lì sono i greci lì sono i maia lì sono gli inca in perù no non si conoscevano perché Cristopolo Colombo non c'è mai nato ma vi pare è logico che nessuno accetterebbe mai una cosa del genere perché vuol dire riscrivere la storia chi si prende la briga di riscrivere la storia chi nessuno quale archeologo quale persona onesta direbbe sì è vero io non ci ho capito un cazzo ho scritto dieci libri ma non ci ho capito un cazzo dopo dovresti buttare tutti i libri andrebbero presi tutti i libri di scuola e buttati dentro a un fuoco sacro ecco perché le persone non le accettano queste cose chi per dogma chi per servilismo servilismo e chi non ci arriva proprio per niente ma io queste cose le dico per quelle poche persone come paghi che ci hanno voglia di imparare e ci hanno un'analisi critica ma obiettiva se una cosa è evidente è evidente queste vasche stanno in ogni luogo etrusco quindi non vogliamo chiamarli qua etruschi ma chiamiamole la stessa conoscenza e se poi li ritroviamo in Spagna in Portogallo lo troviamo in Ucraina troviamo sempre le stesse peculiarità in Sardegna gli anelli sopra gli poggiè in Sardegna se si poggiè Domus Dejana ne parlavo ieri con gli stessi anelli sul soffitto ma come si potrebbe chiamare come è possibile ci stanno le Domus Dejana in Sardegna con gli stessi anelli in pietra sopra i soffitti a culo a culo ma non è possibile quindi con una botta di culo cosmico allucinante insieme a Pachigno la meravigliosa gravina in Puglia forse è tutto grazie a tutti grazie a tutti ovviamente regalo finale come sempre non ho citato ma visto che ci passa davanti vi ricordo un'altra peculiarità quelle che vengono chiamate le cut rots i solchi di carri solchi di carri anch'esse presenti a gravina in Puglia nel modo speculare degli etruschi in Sardegna ho fatto un collage dove addirittura qui ritroviamo lo stesso angolo purtroppo qui è tutto rovinato si vede poco ma anche le rotaglie queste qui ma possono essere rotaglie dei carretti rotaglie che finivano negli angoli delle tombe esattamente speculari alla necropoli di Cerveteri altra firma inconfondibile con tutti i righi fu 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 speculare speculare metto la foto anche qui non solo di Cerveteri della Sardegna a Malta all'isola di Malta dove ci stanno gli stessi ipogei che ieri parlavo della frequenza stessi ipogei stessi sistemi stesse rotaglie e qui non è perché la pietra è morbida sono passati i carretti in Sardegna c'è il granito ci stanno i stessi segni ecco perché ritorno a dire che non importa il materiale potrebbe essere farina potrebbe essere diamante loro facevano quel che gli pare e piace e dalle rotaglie coppa chigno probabilmente è tutto anzi pure da Ponte Romano e Gravino e come regalo finale immancabile sono tornato dalla parte opposta della bocca del drago della necropoli di Padre Eterno su quella che feci vedere vedete che c'era una grotta chiusa murata qua c'erano le mura qua dietro chissà cosa c'era dentro in quel che è il più grande solco unico di tutta Gravina il più grande altare che ho mai visto qua infatti troviamo subito una piccola vasca per l'acqua io parto da qui ma non so se parte da qui il grande solco che costeggia tutta questa rupe eccolo qua che questo pulito sarebbe sarebbe una meraviglia da vederlo pulito ma vabbè se mi vedono dalle case qui qualcuno storce il naso e costeggia tutta questa roccia questo sperone ecco fino all'altra estremità ovviamente qui state chiuse le grotte come dicevo e esattamente la parte più alta al centro ecco l'altare vero e proprio tondo ovviamente ecco Paghi da davanti la bocca del leone necropoli di Padre Eterno collina di Botromagno per oggi è tutto ciao Paghi Paghi Paghi